Ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Extra. Il tema che affronteremo in questa puntata certamente direte voi non è nuovo, ma perché? Perché è quello della sanità, ma perché lo affrontiamo? Perché nelle ultime settimane il dibattito si è riaperto a seguito di un articolo apparso su un quotidiano nazionale che decretava sostanzialmente la morte entro 24 mesi dell'ospedale Castelli. E allora da qui vogliamo partire proponendovi quella che è stata la voce del sindacato dei medici locali a proposito di queste parole e della fotografia che ne hanno fatto, poi sentiremo la posizione della regione in ultima analisi invece che cosa l'azienda sanitaria dice a proposito dello stato di salute del Verbano Cusiossola. Vi dico subito che questa puntata avrebbe voluto essere una voce aperta a tutti, non abbiamo avuto la possibilità per impegni dei diretti interessati da noi contattati di far parlare anche le organizzazioni sindacali, torneremo ovviamente anche con la loro voce e possibilmente anche quella degli utenti per fotografare al meglio quella che è la situazione sanitaria nel Verbano Cusiossola. Allora partiamo con un servizio che riepiloga quelle che sono state le richieste avanzate dalle organizzazioni di categoria dei medici e dei dirigenti sanitari del VCO, poi ci sarà la voce della regione con il sottosegretario Preioni, dunque la direttrice generale dell'Asla Chiara Serpieri. Sentiamo. Una lettera aperta che suona più come un appello è quella fermata da Francesco Romagnoli, Andrea Capuano, Roberto Emidi, Pantaleo Metrano ed Antonio Dell'Era, rappresentanti sindacali dei medici e dirigenti sanitari del VCO, scopo a fotografare la situazione del comparto a livello locale, che poi null'altro è la risposta ad un articolo di giornale apparso qualche giorno fa a livello nazionale che ipotizzava entro due anni la chiusura del Castelli. Il mondo sindacale dice di voler fare chiarezza e spiega all'ospedale di Verbania rispetto a quello di Domo a molti meno gettonisti e soltanto due strutture complesse sono interessate, oltre al Dea Radiologia, Pediatria e Medicina. Per i firmatari della lettera la situazione del San Biagio è da considerarsi addirittura peggiore rispetto al Castelli perché scrivono ci sono ortopedia e urologia interamente affidate a gettonisti. Medicina interna a livello di dirigenti Asla è messa peggio che a Verbania e utilizza più gettonisti. Anche neurologia e radiologia fanno un discreto uso di personale a gettone. La missiva punta l'indice anche sul punto nascite del San Biagio in appalto a Pediacop da diversi anni. Non dimentichiamo, sottolineano i sindacalisti, il taglio del nastro del presidente Cirio per il nuovo reparto prima delle elezioni quando era noto a tutti che era rimasto un solo dirigente dipendente che operava sia a Verbania che a Domo. Altro punto dolente del nosocomio domese per i firmatari della lettera è l'ostetricia ginecologia. A dieci anni di distanza scrivono nessuna giunta regionale applicato una sentenza passata in giudicato con il risultato che nel 2023 a Domodossola ci sono stati 70 parti, quest'anno sino ad oggi 40. È evidente che medici, infermieri e gettonisti possono essere utilizzati in maniera più proficua. Perché ha sottoscritto l'appello? Altro tema è la fuga dei sanitari verso la Svizzera, ma per loro è un falso problema. Scrivono, si contano sulle dita di una mano, forse due. Il motivo ha invece a che fare con il disagio di dover lavorare in un ospedale plurisede con la realtà e la dotazione di organici inadeguata. All'indirizzo dell'assessore regionale e alla sanità Riboldi rimandano la questione relativa all'incentivo dei 500 euro per nuove assunzioni. Non appare realizzabile, sottolineano, perché la somma andrebbe largita a tutti i lavoratori. Diversamente sarebbe disparità di trattamento. È in vista delle future nomine di chi dovrà amministrare sul campo la sanità piemontese. I sottoscrittori dell'appello dicono, chiediamo un direttore generale che abbia la capacità di ascoltare prima e poi di risolvere i problemi dei dipendenti e sappia circondarsi di personale adeguato allo scopo. Bocciano perché è minoritaria rispetto ai problemi reali della sanità locale. Per fare un esempio, il regolamento recentemente approvato dall'ex direttrice sanitaria rispetto alla possibilità data ai dipendenti ASL di portare sul luogo di lavoro il proprio animale di affezione. I problemi ci sono come ci sono nel resto d'Italia. Poi mi pare inglorioso, ingeneroso nei confronti di tantissimi professionisti della sanità del verbano Cusiossola che invece danno prestazioni di qualità perché penso ad alcuna mobilità attiva che abbiamo nel nostro territorio a servizi come l'oncologia e tanti altri che funzionano in maniera importante. Oltretutto siamo un territorio che a livello tecnologico in questi anni ha avuto una evoluzione molto positiva. Naturalmente sollevare il polverone, strumentalizzare e analizzare le cose che non vanno è più facile rispetto a chi ha ruoli di governo, invece deve gestire la situazione seppur complicata e critica. Io continuo a dire da sempre i medici e i sanitari dobbiamo pagarli di più perché è naturale che qui siamo un territorio attaccato alla Svizzera dove c'è un reddito totalmente diverso e soprattutto le professionalità infermieristiche ci scappano di là. Guardiamo l'esempio dell'RSA di Cannobbio in 15 minuti se è in Svizzera è naturale che è molto complicato in un territorio così. Quindi ci sarà un intervento da parte di Regione Piemonte sulla scorta della legge che ho fatto e si era fermata in Consiglio regionale per dare un bonus a medici e infermieri ai territori delle aree interne e territori speciali come il nostro. Così come c'è già un bonus che verrà erogato a brevissimo e che è già in fase di ultimazione rispetto ad esempio a 500 euro in più per chi apre gli ambulatori, i medici di famiglia che aprono gli ambulatori nelle zone delle aree interne, dei incentivi reali e concreti che possiamo fare. Così come chiediamo ai sindaci di darci una mano. I sindaci possono dare l'asilo nido gratuito, l'asilo gratuito, dare degli appartamenti in affitti agevolati e i medici che scelgono di venire nel nostro splendido territorio dove c'è una qualità della vita importantissima. Ribadisco però le cose, problemi ce ne sono, siano in via di risoluzione, si fa quello che si può perché nessuno ha la bacchecata magica, ma abbiamo dei grandissimi professionisti perché se penso all'oculista che fa il trapianto delle corne, che sistema le retine e tanto tanto altro, non è vero che non abbiamo assolutamente professionisti di qualità. Io rispetto tantissimo il lavoro dei signori giornalisti ma trovo che questo tipo di comunicazione sia veramente eccessiva e in questo caso totalmente inesatta. Allora, innanzitutto noi siamo dei professionisti, siamo abituati a lavorare con i dati, con i numeri, con i documenti, con le evidenze. Le evidenze sono che in questa azienda sanitaria e segnatamente entrambi gli ospedali di questa azienda sanitaria a gestione diretta, per non parlare di quello di cui noi siamo soci di maggioranza. Negli ultimi anni hanno recuperato tantissima produzione e complessivamente il sistema sta erogando il 120% di prestazioni rispetto al 2019. Quindi l'azienda sanitaria nel suo complesso, perché è di questo che stiamo parlando, sta, nonostante tutte le notissime difficoltà, lavorando veramente tantissimo e i dati lo dimostrano. Secondariamente abbiamo in atto una politica ormai da parecchio di potenziamento di entrambi gli ospedali, certo rispettando alcune specializzazioni che sono presenti anche per motivi strutturali, oltre che per professionali. Ma negli ultimi anni me ne sono assunta la responsabilità e l'impegno riequilibrando una serie di servizi che dovevano essere fatti in termini di prossimità. Una per tutte è la cataratta, che non è stata citata nelle recenti esternazioni, ma ci sono tantissimi servizi che noi abbiamo riequilibrato fra i due ospedali, non per motivi di, come dire, campanilismo, ma semplicemente perché la nostra professionalità ci dice che ci sono dei servizi che devono essere fatti con prossimità e per noi prossimità vuol dire soprattutto rispettare le due principali polarità di questo territorio. Si tratta di servizi che devono essere fatti a persone anziane, con magari ripetuti accessi alla struttura. Certo non possiamo duplicare la radioterapia perché gli investimenti sarebbero infinitamente non sostenibili, ma certamente ci sono una serie di servizi che sono stati potenziati e riequilibrati fra i due ospedali, sia sulle diagnostiche, sia sugli interventi di chirurgia, di tutti i tipi, non soltanto quelli minori. Infine anche l'aspetto dell'oncologia. In realtà sull'oncologia avevamo una concentrazione su Verbania, abbiamo potenziato l'oncologia, ormai abbiamo dei tempi di attesa per gli interventi che sono fra i migliori che io conosca e nello stesso tempo abbiamo riequilibrato tutti gli accessi che devono essere fatti con prossimità. Quindi io innanzitutto sono veramente dispiaciuta di non essere riuscita a demolire questa logica di opposizione dualistica che non ha senso. Me ne dispiace, avrei forse potuto impegnarmi di più, non ci sono riuscita. I numeri però dicono che non è vero, che abbiamo un sacco di problemi, ma questo lo sappiamo da sempre, che abbiamo delle strutture obsolete e non a caso abbiamo fatto un lungo e faticoso percorso per ottenere, speriamo a breve, i finanziamenti per la ristrutturazione completa di entrambi gli edifici ospedalieri e soprattutto anche per la restituzione al territorio di due siti che abbiano anche una decenza urbanistica, di socialità, di vivibilità anche green diversa. Non so se avete potuto vedere i concept che abbiamo elaborato nella nostra idea, gli ospedali non sono solo dei tristi luoghi di cura, ma sono anche dei bei luoghi che sono vivibili da parte di tutti. Quindi i fatti dicono che non è vero, c'è chi vuole vuole mescolare probabilmente un po' le opinioni, ma veda, cioè con le opinioni non si va da nessuna parte. Le opinioni, la sua è rispettabile quanto la mia, io dico che noi dobbiamo lavorare con i dati e i dati dicono che tutte queste cose non sono vere. Tra le problematiche, ne abbiamo parlato anche diverse volte, c'è quella del reperimento del personale. Parliamo di personale medico e personale infermieristico e parliamo anche di concorrenza con la vicina Svizzera. Com'è la situazione per quanto riguarda, iniziamo dal personale medico. Anche nell'articolo per esempio si diceva, i medici scappano oltre frontiera. I medici scappano oltre frontiera ma non vanno in Svizzera. I medici italiani specializzati di altissima professionalità e molto apprezzati nel mondo vanno ovunque nel mondo perché hanno dei percorsi di carriera professionalizzata e professionalizzante molto rapidi, molto ben remunerati nei quali si sentono soddisfatti. I medici vanno in Inghilterra, i medici vanno in Germania dove gli accolgono a braccia aperta nonostante una lingua che non è propriamente facile da acquisire, entrano in ospedali altamente specializzati, vanno in Portogallo perché ci sono dei sistemi di cure di prossimità veramente molto ben remunerati e molto efficienti. Quindi noi abbiamo un problema di recuperare attrattività nei confronti di tutti i medici ma in questo specifico ambito professionale non è la Svizzera che ci preoccupa, mentre la ci preoccupa tanto invece per gli infermieri, anche perché intanto è un trend storico di nuovo documentato dai numeri ormai da parecchi anni, secondariamente per gli infermieri c'è un gap economico che è ancora peggiore di quello che i medici trovano in altre nazioni perché qui stiamo parlando di cifre che sono paragonabili a degli stipendi 2, 3, 4 volte superiore a quelli che gli infermieri prendono in Italia, quindi non c'è competizione rispetto a questi temi qui. C'è anche da dire che gli infermieri per andare a lavorare in Svizzera e godere appieno di questo vantaggio economico devono poi risiedere in Italia, questa cosa implica che devono fare pendolarismo, pendolarismo glielo dice una che ha vissuto tutta la vita da pendolare è faticoso e soprattutto è complicato da gestire in termini di contesto familiare, quindi a un certo punto per fortuna qualche volta i ragazzi più giovani ritornano ad avere bisogno di contesti più accoglienti e quindi vengono da noi. Questo è il tema sul quale noi stiamo lavorando, nel senso che noi anche in intesa con le organizzazioni sindacali tutte vogliamo lavorare su un contesto di welfare aziendale che per fortuna oggi i contratti ci permettono di gestire anche economicamente e quello che non riusciamo a fare attraverso gli aumenti contrattuali degli stipendi invece penso che riusciremo a farlo, lo stiamo elaborando in queste ore, in questi giorni per cui spero entro l'anno di avere tutto l'intero progetto pronto, stiamo lavorando un progetto di welfare che ci permetterà anche di fare queste cose diciamo remunerative dal punto di vista economico strettamente ma anche di facilitazione della vita, per esempio questa è una cosa che abbiamo già realizzato, è già attivo da qualche giorno il nostro micronito aziendale, abbiamo avuto la fortuna di poter aderire perché abbiamo trovato il contesto giusto al bando che Regione Piemonte ha fatto specifico per le aziende sanitarie per gli ospedali della Regione Piemonte, abbiamo avuto il finanziamento quindi sia la ristrutturazione che la gestione sono finanziati per i prossimi tre anni e noi godiamo di oggi di un asilo nido aziendale per 12 bambini completamente gratuito al quale i nostri dipendenti possono iscrivere i loro bambini, 12 piccoli bimbi che se no sarebbero andati altrove in termini di servizi di nido ma che avrebbero costretto i propri genitori a lavorare magari altrove, quindi questa è la politica, questa è la linea, è complicato però ci pare che questo sia il tema, forse non si può pensare che le persone spendano tutta la loro esistenza qui da noi provenendo magari da tanti posti diversi ma certamente si può convincere a passare qui una parte della loro esistenza, a pensare che la loro famiglia è accolta, a pensare che noi gli offriamo di crescere professionalmente, il nostro budget della formazione è triplicato negli ultimi anni, tutti i nostri infermieri di comunità sono stati formati a nostro carico, se un medico o un altro professionista vuole andare a professionalizzarsi e questo è coerente con quello che noi dobbiamo fare, noi favoriamo queste cose, abbiamo fatto anche un bellissimo accordo con le organizzazioni sindacali mediche che ringrazio perché è vero ci mancano parecchi medici però quello che non spendiamo perché mancano i medici siamo riusciti a ricollocarlo sulle retribuzioni di posizione di coloro che invece ci sono, quindi quest'anno abbiamo aumentato il 50% e anche l'anno scorso le retribuzioni di posizione del personale medico, allora è un lavoro che non ha mai fine nel senso che devi mettere un tassello dopo l'altro, è anche molto faticoso e noi siamo una pubblica amministrazione, è un po' complicato con le nostre regole, però credo che questa sia la strada necessaria, noi vogliamo pensare ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori, ai nostri tutti, non solo medici e infermieri ma anche altri professionisti tipo ingegneri, avvocati, statistici, informatici, abbiamo portato persone che venivano dal privato e da altre località italiane in questa zona che sono venute ad abitare qui, persone di valore che stanno portando del valore aggiunto dentro l'azienda, non so se staranno qui tutta la vita, ma per il tempo che ci staranno mi sembra che devono trovare un contesto accogliente, questo è quello che noi stiamo cercando di fare. C'è una lettera aperta diffusa dal sindacato dei medici, in questa lettera due punti volevo commentare con lei, il primo si dice che l'ospedale San Biagio di Domodossola è addirittura ha messo peggio rispetto al Castelli, il riferimento è in particolare al numero dei gettonisti, una seconda parte invece poi critica se vogliamo anche i vertici dell'asla e anche con il riferimento a quel regolamento sugli animali d'affezione si dice forse c'erano cose più importanti, come commenta questi due? Allora se uno vuole fare polemiche, fa sempre polemiche, guardi ne troverei di argomenti per polemizzare con chi ha caso, il tema è, allora mettiamoci d'accordo, stiamo penalizzando Verbania, Domodossola non ho capito, allora sì Domodossola soffre di più di Verbania rispetto ai gettonisti e perché? Perché a Verbania probabilmente siamo riusciti a creare un contesto nel quale le persone arrivano più facilmente e permangono più facilmente, a Domodossola nell'immaginario collettivo è un pochino più lontana, storicamente ci sono dei servizi che sono sofferenti da questo punto di vista già da tanti anni, i nostri idea sono non so quanti anni che hanno dei gettonisti, non so se non ce ne eravamo accorti prima, ma non è da ieri e non è dall'altro ieri, non ce li siamo inventati, li abbiamo trovati. Abbiamo altri ambiti nei quali questa cosa succede, ma succede ma noi siamo veramente in una condizione di necessità che non vedo come diversamente potrebbe essere risolta. D'altra parte possiamo anche semplicemente porre il problema in questi termini, vogliamo un servizio o non lo vogliamo? Se lo vogliamo le condizioni di erogazione di questo servizio possono dipendere dalle congiunture, per esempio quella di una carenza di professionisti che implicano delle decisioni. Ora noi portiamo qui dei professionisti di elevata professionalità, poi nel mucchio ci sono anche quelli un po' meno professionalizzati perché le competenze come le caratteristiche delle persone sono distribuite secondo una gaussiana, ci sono tutte le gambe possibili. Allora è chiaro che non si può avere il bollino di garanzia assoluta e di massima eccellenza in tutti i casi, ma numero uno questi contratti sono tutelanti perché le persone che non dimostrano di essere professionalizzate vengono allontanate e non è la prima volta che vengono allontanate. Abbiamo fior di evidenze da questo punto di vista. Seconda cosa, gestire un pool di professionisti dall'esterno per chi li deve governare, cioè il direttore della struttura, è un onere veramente faticosissimo perché ha delle responsabilità molto grandi ma nello stesso tempo non può farne a meno. Quindi io lo capisco, ma d'altra parte è un onere del direttore della struttura anche quello di provare a cercare sul mercato professionale attrarre le persone che invece possono stabilizzarsi e noi ogni tanto abbiamo questi mix di entrate e uscite perché poi le persone scelgono, cambiano, quindi fanno delle scelte professionali diverse. Quindi da questo punto di vista tutta questa polemica sui gettonisti, francamente io non la capisco, mi sono presa delle responsabilità grosse quando c'è stato il famoso decreto bollette che aveva messo una sorta di mannaia sulla possibilità di assumere i gettonisti. Abbiamo ottenuto facendo un movimento d'opinione molto grande e grazie alla comprensione del Ministro che ha rimodulato il provvedimento, un periodo finestra. Io spero che ci siano ancora delle nuove modifiche perché se no l'anno prossimo siamo punte da capo e va bene, ma tolto questo il tema è ci sono congiunture. Come ho detto la politica è quella di valorizzazione di due ospedali, esattamente come l'abbiamo scritto in tutti i documenti programmatici che bisognerebbe leggere però prima di criticare, eccetera. Dopodiché era inutile il documento relativo ai cani o ai gatti, agli animali d'affezione. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio. Il messaggio è che prima di tutto queste persone fanno queste persone, le chiamo persone perché sapete che diventano parte della famiglia. Allora se io non avessi fatto questo il mio direttore sanitario non avrebbe potuto stare qui con noi per tutto il tempo in cui è stata perché ha un animale sofferente e non avrebbe potuto lavorare in serenità come ha fatto. Fa parte delle politiche di accoglienza. Lei è originaria di un altro mondo e non avrebbe potuto stare qui con noi. E questo fa parte del discorso che facevamo all'inizio perché nei confronti di un direttore sanitario non potevo fare una politica welfare e non la posso estendere ad altri che possono avere lo stesso problema. So che ci sono degli altri casi di questo genere. Non dico una cosa strana. Ci hanno copiato, ci hanno chiesto questa iniziativa da molte parti. Perché è vero che bisogna occuparsi dei massimi di sistemi, ma si può occuparsi anche delle piccole cose, dei piccoli bisogni degli esseri che vivono con noi. E questo poi piace, non piace. Io l'ho trovato una cosa, anche io non avevo cani, ho imparato convivere con questo cane. Ho imparato delle cose e sono grata alla dottoressa che è stata con noi per tutto questo tempo. Sono andate via perché purtroppo le regole della pubblica amministrazione sono dei capestri. Avrebbero dovuto rinunciare al trattamento pensionistico. Questa cosa io non la potevo permettere. Quindi ho lasciato che prendessero le loro scelte, come sempre ho fatto nella mia vita per tutti i miei colleghi che lavorando con me, fra l'altro in molti casi hanno fatto anche carriera, sono andati a lavorare altrove. Questo è il modo con cui non solo si dice, ma si pratica il welfare aziendale. Dopodiché, da ogni altro punto di vista, io spero che ragionando sulle cose da fare, quelle di cui abbiamo bisogno, ci si ricordi di ragionare non con la pancia ma con la testa, con i numeri, la documentazione, le prospettive, le opportunità, insomma da persone serie. Grazie dottoressa. È veramente tutto. Grazie. Appuntamento fra sette giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.